Ciao a tutti, benvenuti a Let's Play Marco Carta Double Dash Marco Carta Andiamo avanti Iniziamo 100 c-c-c-c Classe nuova, partita nuova, vita nuova Marco Carta, ma come ti vengono 100 strozzate? Ma che ne so Classe... Facciamo... Io mi trovo con le medie, sinceramente Ma sì, però non queste L'indecisione Non so neanche... Dai, Yoshi e Struzzi Ok, tu Struzzi, perfetto E come solito non diciamo niente Come sempre basta guardare Allora, prendiamone una che vada velocina se c'è Questa qua E' quella che abbiamo già usato E quella era carina Questa è in accelerazione in bomba Ed è proprio quella di Yoshi Ma io nelle prime piste Questa non mi piace Userei una veloce Visto che sono facili come piste Poche curve Fungo Fungo Comunque Come abbiamo finito Quel video precedente Non c'è nessun altro trofeo Che io pensavo Spuntasse fuori Dopo aver compiutato Almeno per ora Poi... Sì Però io già pensavo adesso Io sinceramente non lo so Io mi ricordo qualcosa ma Cioè... Al momento ne so quanto vuol Una buona partenza Se li ammazzo Se li ammazzo Guarda che 100cc Dobbiamo un po' Ah è vero, è vero Ora... Vedi che andiamo già a 71 No Sì Speciale Wow Cosa fa? Mi segue È come un... Credo proprio di sì Un rosso Un guscio rosso A proposito di guscio rosso Si vede è che è più difficile Oh Cazzo abbiamo un cateniaccio Non so Sì Fai per buon Riprendiamoci E qua Ce li studiamo Sì è più difficile Buon è un po' più emozionante Da guardare Ma anche da giocare Cazzato Sì È vero Mi sembra di fermo Però Stavolta dobbiamo dirvi che Forse non arriveremo prima Sì È la dura realtà Speciale Però non prendono il turbo Sono sempre davanti a lui Ma anche tu li hai presiti Eh Infatti vedi che sei più vicino Ma perché loro sono stati colpiti dal mio speciale Oddio Sei contramano Eh so Pazzo Sono troppo lento Oh 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 Cazzotto No 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 Mi finiamo qua Oddio Sono vicini Sono vicini No Non da tema Contramano Che mi fanno Che mi fanno Un rifarto ogni volta Oh La banana del cazzo Non voglio perdere Per una banana Mamma mia No Non lanciarlo Guarda male Guarda male Ma basta Questo Vai Vai Boh 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 Abbiamo rubito Vai 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 Oddio Oddio Oh Madre Boh Ok Boh Almeno è più a vincendo Avete capito che qua ci sono le emozioni Avete capito anche che in 150 faremo pena Avete capito? Sì che c'è dovremmo sudare Non die Già qua Yeah Ok Abbiamo due rivali Strafighi Strafighi Piaggia di speech Piaggia di speech Wow Wow Sì come subito così Fai vedere chi comanda Sì sì fa Loro Sai che Ah ho capito cosa fa l'uovo in più rispetto al guscio Lascia anche delle cose Tipo? Primo visto che uscivano tartare Eh sì banane E robe del genere Sì Le parole non le so Non mi piace essere primo nei 100cc te lo dico È una cosa che ho pensato ora Facevamo molto meglio a prendere una classe Che danza Una classe pesante Per questo primo Eh ci sono più reti lini Sì Però tu mi consigliati di prendere questo Sì sì ma infatti Non ti sto dando la cosa Ecco quei gusci prima sono usciti Per tirano? Eh Non è parte Non c'è indietro Un botto l'ho sentito Non so cosa si è uscito dal l'uovo Un l'uovo di Pasqua Ancora l'uovo? Non ti aspetta Eh non lo sapevo Ma c'è un modo per tenere Basta che non lo lanci Eviterà il colpo No Cioè lo lanci indietro Si Lo lanci indietro una volta che sta per arrivare nel culo All'ultimo secondo Non è come sui che puoi portarti dietro gli oggetti Eh forse anche si può Ma noi non siamo che pazzi Non so come Sì però Si recuperano subito Non so come Sono più veloci La stellina l'hai persa Tieno eh Vai Eh mi hai detto tu Eh ma forse Io mi fidavo di te In accelerazione siamo più veloci di loro In teoria Occhio Non ci credo Nooo Ma dai È arrivato a 47.000 alle ore Se si poteva guardare indietro Non c'era problema Eh ma si può forse Però Prima sono arrivate terze Quindi siamo ancora davanti Sì ma che vuoi fregare? Avete capito che Non è facile Oh qui ho maggior ragione Non sarà facile Wow Wow Sì ma non è proprio Dove ne decidano a merter In quella città Basta Due ne ha presi Sì Ci hanno piazzata In quel posto Alcune Sì Dio tranquillo Oh ragazzi Perciò per perdere l'oggetto Sì Propriamo queste che sono Più vicine in classifica Se non sbaglio Di poco Sì Due punti Buono Buono Sì ma non so perché Ma quando le annuncio indietro Non vanno mai a segno Venga avanti C'è un raffreddore Della 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 Non diciamo di cosa O di chi Della Non diciamo di cosa C'è un raffreddore Sì ma Sì ma Uuuu Non volevo prendere il fai Però stiamo andando abbastanza bene Stiamo andando Stiamo andando Vai Buona Buona Adesso me lo metto io sicuro No Troppo sempre più Sarà finito Vai 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 Oh yeah Il ritorno alla vittoria Facciamo così fatica Solo perché tu hai preso Struzzi Adesso Di un personaggio Veramente inutile Non è vero Sì 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 che si scanano tra di l'otto Infatti Perché così ci siamo guadagnati Un bel vantaggio Boh beh Sì 6 punti E beh abbiamo lasciato per strada Solo 2 punti Eh Qua Eh Boh Spero di non finire dentro la sabbia Oh yeah Manca Oh che culo Maggio Guarda come va Guarda come va Guarda come va Non buscarsi Uh double kill Oh triple kill Perché anche noi Mi sa che No Ma li ho proprio buttati Era un double kill Più i cigli Li ho buttati giù Pensai Non so Eh se me la passavi Forse ce la facevo Sì sì Colpa mia No Che bastardo Si sono fatti un nemico Ce l'avevamo già Prima Sì lo prendo ora Ora nel dubbio Sappiamo con chi prendercela Tra loro E quelle altre Le stronz Le squaldrine Le squaldrine Le pici Le pici Le spici Giusto Giusto Uno speciale Cos'è davanti Ma perché è una merda Sto speciale Cos'è per quello Perché ce lo danno Questo ce lo danno con facilità Perché Perché noi la chiappa pesante Non ce l'abbiamo Questo è mio speciale E' verde E' verde Si va bene E' shiny Cheat Lo sfiorate Quelli dietro Che bella trombetta è lei Sto doppio senso Ui ui Basta Nooo Nooo Non voglio Cavolo Mi fa un bel vantaggio Carotto Ma E' il brutto Di essere primo Si E' un po' differente Che rumore Wow Oh yeah Questa è fatta Benissimo Abbiamo perso la nostra gara Dai Perso Aveva di secondi Eh beh Proprio Il photo finish Era quello Si Ci hanno fregato Va bene Va bene Ma si chiamava Desertico Deserto Non deserto Desertico Eh ma L'hanno fatta All'inglese Con l'aggettivo Prima del nome Stavolta la premiazione Voglio proprio guardarmela Anche se Perché se E' identica a pink Però Un altro fascino Il 100cc Guarda Yoshi Come si la gode Struzzi è più contenuta Invece Yoshi Oh yeah Perché sa Sa come Sa il premio Che riceverà Dopo da Struzzi Lo sa E abbiamo detto Niente battutina Infatti Struzzi Non è contento Ma è predisposta Fisicamente Vabbè Basta Però Ok Vediamo se abbiamo Sbloccato qualcos'altro Ma spero di si C'è E' stata Una fatica Un'altra carrozzina Wow Ben regali Questo è per Baby Mario E Baby Luigi Li riuseremo Magari Visto che sono Quelli che mi piacciono di più Vabbè Fatto sta Che abbiamo finito Il secondo trofeo Emozionante Dei 100cc La classe delle emozioni Va bene Al prossimo video Alla prossima